Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 2 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. La bianca signora arriva, ma in ritardo. Se aspettate l'arrivo della bianca signora converrà a cambiare programma, facendo micio micio con venere in se stile si farà vedere solo all'ora di cena, quando vi sarete persi il favore di Mercurio, che oggi pomeriggio raggiunge Plutone, aggiungendo qualche nuovo tassello all'agenda già stravolgente della giornata, naturale con l'Immacolata alle porte. A rallentarvi per tutta la giornata l'inerzia della bianca signora in dodicesima casa, prontasi a scavalcare la linea di confine, ma ai me troppo tardi per risolvere le grane di lavoro. Farà invece in tempo a regalarvi una bella serata, parole d'amore col partner e tante carezze per il quattro zampe. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Momenti di tensione con un amico nella parte finale della mattinata. Pomeriggio teso e nervoso. Serata con telefonate irritanti. L'autocritica spesso è necessaria e aiuta, questo è il momento di fare autocritica e trovare i punti deboli in noi per poterli gestire. Se non avete mai provato la gioia di aiutare il prossimo fatelo oggi stesso, godrete di una gioia profonda e vera nel vostro cuore che vi aiuterà tantissimo. Se oggi qualcuno cercherà di strapparvi confidenze sarà solo per utilizzarle contro di voi, possibile che non sappiate essere ancora riservati? Occorre tutta la fiducia in voi stessi e il buon senso per raddrizzare nel pomeriggio una giornata che fin dalle prime ore del mattino si presenta complicata e con qualche nervosisimo. Idee originali. Irrequietezza. Non trascurare il riposo. Benissimo gioco, amore, rapporti con i figli. Nuove conoscenze. Matrimonio, associazioni lavorative, cause illegali, tutto bene o quasi. I semi piantati due settimane fa, daranno ora i loro frutti. Buon umore. Ottimo giorno per iniziare un corso di yoga o per imparare cose nuove. Avrai voglia di analizzare ciò che hai nel più profondo di te stesso. Qualsiasi cosa intraprenderete avrà un discreto margine di successo. Sappiate qualificarvi al momento opportuno e seguite il vostro istinto. Il buon giorno si vede dal mattino per questo dicembre 2023 e vi arriva da tre corpi celesti che vi inviano i loro influssi benefici, si tratta di Marte in Sagittario, dalla luna nel vostro segno a partire dal pomeriggio e da Venere in bilancia. Un magico Marte focoso in particolare è pronto a scaldarvi il cuore. Giornata tutta lavoro e se avete velleità d'amore o di svago levatevene almeno parte dalla testa, sì perché Mercurio, amico di Marte e del sole passionale in Sagittario, oggi lascia il segno per varcare i confini del Capricorno, regno del successo e del lavoro dominato dall'ermetico Plutone che subito lo ometterà a tacere chiudendogli la bocca con lo scotch. Concentrazione sarà la parola chiave, stop anche alle fantasie peregrine e alle malinconiche rimembranze su modello leopardiano volute dalla luna ipersensibile in dodicesima casa. L'amore non si gode tra ricordi e rimpianti, piuttosto lo si fa, parola di Venere maliziosa nel segno amico della bilancia in se stile al vostro. Amore ed Eros. Stoppa i ricordi di un ex che, se è diventato tale, non era la persona adatta a voi o viceversa. Quando i pezzi del puzzle proprio non si combinano, neppure con qualche limatura, inutile insistere, meglio volgere lo sguardo e cambiare direzione. Interesse smaccato da parte di un collega o di un compagno di studi, se il partner c'è già però evitate di ingelosirlo, ne uscirebbe un putiferio per un non nulla. In ultima analisi è sempre e soltanto il vostro cuore a decidere gli eventi, se dare l'ok o chiudere dolcemente la porta è una scelta che compete soltanto a voi. Se festeggiate il compleanno in luglio e se siete single, chi avrete in menti da tempo di conquistare non tarderà adesso a farsi avanti. Chi di voi vive una relazione stabile invece gode dell'armonia familiare nella quiete e nel tepore del nido. Ci sono sorprese sentimentali che vi toccano quest'oggi e sono preparate dal dio dei colpi di fulmine, Marte, che vi guarda con occhi protettivi. Lavoro e denaro Il pieno del lavoro considerando che la settimana prossima, grazie ai ponti, sarà dimezzata, oggi vi tocca sgobbare come muli, ma lo fate con gioiosa aspettativa. Se poi riuscite a tener fede all'agenda concludendo in tempo utile tutte le vostre incombenze la serata sarà magica. Al cinema, a ballare o a un party indetto dagli amici troverete sempre modo di presentarvi con un'immagine perfetta a seconda dell'occasione. Straordinariamente facile anche il rientro a casa, sarà perché siete usciti presto o più tardi rispetto all'ora canonica, troverete la strada sgombra. Ma se anche così non fosse accendete la radio e la musica vi terrà compagnia. Vediamo in questa giornata di inizio mese come vivono i leoni l'esperienza del dono. Il leone è un segno tra i più magnanimi dello zodiaco, il suo gran cuore d'oro è universalmente riconosciuto, anche se nella generosità deve poter risplendere la luce della personalità non comune, l'impronta del proprio io. E, tuttavia i doni che propone partono sempre da un'azione diretta e spontanea, manifestando un altruismo privo di complicazioni mentali. Con venere in bilancia al vostro fianco i regali, meritatissimi, che arriveranno a voi leoni, veri re della foresta, saranno autenticamente prestigiosi. Benessere. Resistenza fisica ai malanni di stagione, anche l'aspetto, nonostante una settimana da urlo alle spalle, appare fresco come una rosa, in pratica sembrate appena alzati dal letto, pronti per fare colazione e invece state andando a cena fuori o avete organizzato per un delivery da gustare a casa vostra in piena libertà. Vi piace vincere, senza regole né vincoli. Chiudete la giornata con rinnovato entusiasmo. Per lei, fiacca la forma fisica in mattinata, si fa pimpante la sera. E così ricaricate siete pronte a fare le ore piccole. Per lui, il lavoro non vi manca, il successo sociale nemmeno, ma un filo di preoccupazione c'è, ogni volta che pensate ai vostri titoli azionari vi manca il respiro. Su con la vita, risaliranno anche loro. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 5, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.